Siamo ad Agrigento e questo è il ristorante nel quale ceneremo questa sera. Questo è il menù. E questo è il nostro tavolo. Ciao ciao! Questo è l'interno. Questo è il mio pacchero. Mentre questa è la vegetariana con le mandorle. Non male la cremogità. Guardate che spettacolo il mio filetto cotto a bassa temperatura. E cosa fai? Te ne privi? Figurati. Ma figurati. E questo è il conto. Ed eccoci arrivati alle conclusioni. Cosa dire? Nel complesso è buono. Peccato questo odore di pipì costante sotto il naso. E mi pulsava di truffa un po' il conto. Perché comunque c'era lo sconto del 50% su The Fork. Però in realtà nello scontrino io ho pagato 60 euro. E non è stato applicato nessuno sconto. Provate voi. Fatemi sapere.